Calcetto, basket, pallavolo e ping pong, tutto rigorosamente senza arbitro. È la manifestazione che la WISP di Firenze ha organizzato come anteprima dei mondiali antirazzisti, in programma dal 5 al 9 luglio a Modena. Negli impianti sportivi dell'Albereta, alla periferia sud della città, si sono sfidate una trentina di squadre formate da atleti provenienti da diversi paesi europei e africani. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Anelli Mancanti e con Oxfam Firenze.